Se Montagnere fosse ancora con noi meriterebbe un altro premio nobile, perché amici e amiche tutto quello che ha detto, tutto quello che disse prima di andarsene, di volare in cielo, perché è volato in cielo, non c'è dubbio, si sta avverando. E sapete cosa mi dispiace? Mi dispiace ogni tanto ci ripasso, ho visto un post mio vecchio di due anni e mezzo fa, l'ho visto a pochi istanti fa, e mi sono ricordato di lui, di tutte le cose che ha detto, tutte le cose che ha detto da anziano, da vecchio anziano, ma con molta esperienza e con molta sapienza. Un premio nobile. Tutti i giorni, vedete, dobbiamo assistere a ridicoli racconti e presunzioni distanti, molto distanti da quella che è la realtà. C'è chi come l'Avenier, come l'Aventura, l'Aventura in particolare, hanno delle paresi facciali e danno la colpa al freddo, permettendo che potrebbe essere tutto tranne che il freddo. Ho verificato la cosa e il freddo non può comportare una paralisi facciale. Può il freddo influire e dare un'infiammazione, ma non una paresi facciale. La paresi facciale non può essere dovuta al freddo. Quindi quello racconta, tra parentesi, in un periodo dove c'è il riscaldamento globale, l'anno più caldo della storia, dicono. In questo periodo stiamo vedendo tantissimi personaggi, cioè al di là dei giovanissimi che se ne vanno, al di là degli sportivi che se ne vanno, tantissimi personaggi famosi che se ne vanno. C'è chi per malattie che portano dietro da tempo, almeno questo è quello che ci raccontano. Pininfarina, pace all'anima sua, se ne è andato tre ore, è la notizia di tre ore fa. Berlusconi se ne è andato. Tantissimi personaggi, è inutile stare a rielencarli tutti. E ogni dubbio è sempre più lecito. O meglio, i miei dubbi, diciamo così, si rafforzano. E ripensando tutto quello che ha detto Montagnier, andato a incastrare i tasselli dei discorsi fatti da lui, anche in nostra presenza, quando l'abbiamo conosciuto dal vivo a Milano, tutti i discorsi fatti si sono o meglio, si stanno concretizzando, si sono già concretizzati tanti discorsi fatti. E quello che mi fa specie è che la gente non lo capisca. La gente continua a far finta di nulla. non tanto i politici potenti, che ovviamente non possono dire la verità. Oggi c'è stata una dichiarazione di AIFA molto importante su quello che hanno detto dei vaccini. Hanno ammesso cose molto importanti, andate a vederle voi, non voglio fare nessuna ipotesi per evitare di farmi etichettare come fuori contesto o come Novrax, che non sono Novrax, non mi interessa. Io sono semplicemente un cittadino che ha sempre preteso un diritto di scelta e ha sempre ascoltato i veri medici. I premi Nobel, pensate, ho sempre ascoltato i premi Nobel. quelli che sono stati offesi, quelli che sono stati mediaticamente bastonati dai falsi medici, che più che medici sono mercenari. Un grande Tommy Ortega, detto bene, Montagnier, un grande inascoltato. Inascoltato dal mainstream, inascoltato dai potenti, inascoltato dall'OMS, inascoltato da tutti quei personaggi che non volevano ascoltarlo, ma ascoltato dalla gente, dalla parte importante della gente, dal popolo. Montagnier ha salvato tantissime vite durante la sua carriera. Meriterebbe un altro premio Nobel alla memoria. Un premio Nobel alla memoria. Sta venendo fuori quotidianamente sempre di più la verità. E mentre il governo Meloni dice no al green pass dell'OMS, oggi sono spuntate le prime minacce in alcuni post, tweet, da parte degli esponenti dell'OMS, dove dicono siamo siete sicuri, italiani, Meloni, siete sicuri di non voler aderire al piano dell'OMS? Amici, se ci fosse ancora Montagnier, meriterebbe un ulteriore premio Nobel, perché era un grande medico, un grande eroe, incompreso dal mainstream, o meglio, compreso dal mainstream, perché l'avete compreso bene Montagnier, ma avete fatto finta di nulla. Non l'avete ascoltato volontariamente. L'avete taciuto con le vostre bugie, con i vostri racconti. Detto questo, vi do la buonanotte con la connessione che dice lenta, ovviamente. Diventa lenta sempre quando parlo di cose che interessano la gente. Quando dico la verità, la connessione diventa così, come per il miracolo, lenta. Ma noi non ci fermiamo, mai. Vorrei ricordarlo, da lunedì sera, ore 20 e 30, ascolterete tutta la verità. nel nuovo format Observer, ogni dubbio è lecito. È incredibile. Robby, sei troppo scomodo e ti bloccano. Che schifo. Daniele Brini. Si blocca di continuo. Amici, ogni dubbio è lecito. Vedete, lunedì sera, sul canale 68 del digitale terrestre, non potranno più bloccarci. E diremo tutta quella verità che sui social network non possiamo dire perché la connessione diventa lenta così, come per il miracolo. Diretta e connessione pessima, dice Luigi. Purtroppo lo so. ci sono dei blocchi di connessione. Ne sono al corrente. La verità fa male, ti bloccano. Due parole, si fermano la linea. Guardate i vostri commenti. Vi chiederei di condividere, perché questo è un motivo in più per condividere. Perché evidentemente dà molto fastidio che ci sia chi ragiona ancora in questa Italia. in questa Italia che ormai è finita. Sono stanco veramente di ascoltare i politici, amici. Tutti. Dal primo all'ultimo. Delusione totale dei politici. Dal primo all'ultimo. Non ti fanno parlare, mi dice Ileana. Ne sono al corrente. Infatti andremo in televisione. Lo ripeto per quelli che non sono riusciti a sentire perché mi bloccavano. Da lunedì sera canale 68 del digitale terrestre. Observer. Ogni dubbio è lecito. Un nuovo format. Dalle 20.30 alle 21.00. Ci saranno degli amici con noi. Sandro Torella. Ci sarà anche il caro amico Sandro che siamo diventati amici. Hanno provato a metterci uno contro l'altro ma ci sarà. ci sarà Enzo Incontro un grande giornalista e pastore cristiano dalla Sicilia collegato dalla Sicilia. Ci sarà Torella da Roma. Ci sarà Luca Bello come è l'amico Luca. Ci sarò io e tanti ospiti puntata dopo puntata. Ci siamo presi uno spazio televisivo. Canale 68 del digitale terrestre. Un canale minore lo ripeto perché prima non so se abbiate sentito questa cosa un canale minore ma un canale nazionale che copre tutta la penisola. Saremo anche su Sky canale 222 non vorrei sbagliarmi però se accendete la tv normale mettete su 68 vedrete il canale. Boom Channel Sandro Torella Sandro Torella odio un altro genio Sandro ricondro tu Sandro invece hai la faccia da genio non vedo l'ora di vederti in tv su 68 non vedo mai la tv ecco Antonio gigante sarà un motivo per guardarla non devi accendere e mettere sui canali tradizionali mainstream metti direttamente su 68 lunedì sera ore 20 e 30 tonde lunedì sera ore 20 e 30 vi voglio bene vi auguro un bravo bravissimo grazie alla brava buonanotte ok canale 68 amici preghiamo che Montagnier dall'alto dei cieli ci protegga come ha fatto fino ad oggi come ha sempre fatto un grande medico un vero premio Nobel non quella fuffa che ci troviamo in Italia ciao a tutti vi voglio bene buonanotte